buonasera patrizio son paparivo non ci credo non ci credo sei tu veramente vai a letto paparivo ma tu ti fidi di me io mi fido di te basta che vai a letto io mi fido di te capito mamma mia come sono emozionato allora questo è più sale di pollo che prendo i polli non lo voglio dire poi ci mettiamo anise con le uova dell'uovo con le uova del pollo che fatto fare quella brutta fine pomodoro che schiaccia a casa con i piedi così diamo due madadine pratica ormai già stagionato un po di salsa yogurt marito questa la faccio io poi per ultimo ingrediente barbecue di cammello tieni cosa hai combinato qua quanta roba ci hai messo dopo questo vai al letto ma come faccio ad andare a letto qui ora che lo digerisco sta roba io vado a letto domani aspetta aspetta paparino ma che voto mi dai ma allora non ti posso dare 10 ma ti do 11